Voi dite non è retto il modo di agire del Signore? Ascolta dunque Israele, non è retta la mia condotta o piuttosto non è retta la vostra? Queste parole con le quali si apre la prima lettura tratta dal libro del profeta Ezechiele rispondono ad un interrogativo che spesso sorge in noi, che ci conduce a dubitare o dell'esistenza o della bontà di Dio. Perché vi sono guerre, ingiustizie, malvagità nel mondo? Perché Dio non fa nulla? La risposta è che non è Lui che compie il male, ma siamo noi, umani. Tutto ciò che non ci piace del nostro mondo non dipende da Dio, ma dal cattivo uso che facciamo della nostra libertà. Infatti poco più avanti leggiamo Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male e a causa di questo muore, è il muore appunto per il male che ha commesso. Se mi metto nei guai non dipende da Dio, che si diverta a complicarmi la vita, ma dalle scelte errate che compio e che rischiano di rovinare la mia esistenza e quella degli altri. Meccanismo che avviene nell'ambito personale e anche a livello mondiale, causando conflitti, violenze, soprusi, povertà, inquinamento, infelicità. Nel Salmo 24 vi è questo passaggio. Buono e retto il Signore indica ai peccatori la via giusta. Se desidero andare in una località della quale non conosco la direzione per arrivarci, devo fidarmi di ciò che mi suggerisce o il navigatore o le indicazioni stradali. Lo stesso vale per l'esistenza. Dio ci ha detto cos'è bene e che cos'è male, ci ha mostrato qual è la strada che ci conduce alla felicità. Se però noi prendiamo altre vie, almeno dobbiamo avere l'onestà di non puntare il dito contro di Lui quando ci troviamo nei guai e smarriti. L'errore nel quale spesso incorriamo è quello di ascoltare solo noi stessi, ignorando ciò che ci ha insegnato Dio per il nostro bene. Ogni giorno, più volte al giorno, è come se ci trovassimo di fronte a un bivio. Dar retta solo a noi stessi oppure provare a guardare le cose dal punto di vista di Dio, agendo di conseguenza. E il brano di Vangelo di oggi completa la riflessione iniziata con la prima lettura, proprio alla luce della parabola che racconta Gesù. Un padre invita i propri due figli ad andare in vigna a lavorare. Il primo risponde che non ne ha voglia, però poi si pente e torna sui propri passi e ci va. Anche il secondo non ne ha voglia. Dice che ci andrà, ma in realtà non lo fa. Oggi al testo e al commento, al Vangelo, vi aggiungo un brano musicale che vi invito ad ascoltare, al di là di quelli che possono essere i vostri gusti musicali. Il mondo che vorrei è il quindicesimo album di Vasco Rossi, uscito il 28 marzo 2008. Quante volte ci lamentiamo del mondo nel quale viviamo? Accusiamo Dio di inerzia, di assenza e non abbiamo il coraggio di farci un sano esame di coscienza ed ammettere che tutto ciò che ci indigna è opera nostra. Vi invito ad ascoltare il brano che dà il titolo all'album, il mondo che vorrei appunto. In particolare vi sottolineo queste parole. Non si può fare quello che si vuole, non si può spingere solo l'acceleratore. A volte occorre alzare il piede dall'acceleratore, rallentare e svoltare per tornare sui nostri passi, esattamente come fa uno dei due figli della parabola. Molti guai nella nostra esistenza e nelle questioni mondiali dipendono dal fatto che andiamo dritti a tutta velocità dando retta solo al nostro io, ai nostri interessi, alla rabbia, alla vendetta, ai pregiudizi, all'egoismo, alla sete di potere e di successo, al nostro desiderio di primeggiare senza mai rallentare e chiederci ma dove sto andando, dove mi sta portando tutto questo, senza avere il coraggio di cambiare sguardo, idee e ammettere con onestà che forse dobbiamo fare una bella svolta U e ritrovare la giusta direzione. Se mi perdo, se mi scopro infelice, disorientato, smarrito, non è colpa di Dio che si diverte a giocare con me e a mettermi in difficoltà, ma dipende da me, che sto andando a tutta velocità ascoltando solo il mio io, ignorando le indicazioni stradali che Dio ha posto sulla mia strada. Se vi sono molte cose nel mondo che non funzionano, non è colpa di Dio che si è momentaneamente distratto o assentato, ma dal fatto che come umanità andiamo dritti come schegge, ignorando le parole che Lui ci ha donato nella Bibbia, e con le quali desidera mostrarci la direzione che ci conduce al bene, alla felicità terrena e un giorno a quella eterna. Lascio a me e a voi una domanda. E io dove devo rallentare per poi svoltare? Buona domenica a tutti.